Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui su uno dei giochi che più aspettavo da tipo questo periodo Ed è Minecraft Story Mod, un gioco della Telltale che sicuramente voi conoscete perché avete giocato a tutti i giochi di sto mondo Possibile immaginabili Ed eccoci quindi qui in questo nuovo episodio, primo episodio per farvi vedere un po' com'è Andiamo a fare play tranquillamente e iniziamo a giocare Ovviamente noi sceglieremo uno di questi, o a caso andiamo con questo E startiamo il primo episodio ragazzi perché è l'unico disponibile Allora comunque andiamo a un primo episodio e vediamo un po' com'è questo Minecraft Story Mod Sì ovviamente la storia si adatta alle mie scelte che faccio, tutto quanto Il gioco è solo in inglese fortunatamente Cioè ci sono altre lingue ma l'inglese è quella principale Niente italiano L'ordine della stone, la roccia Oh no, colazione video è un po' con coraggio Oh no, eccoci E allora, eccoci Che inizia E allora, eccoci Oh no, eccoci Cosa è strana L'Ender ragazzi Oh C'ho anch'io tra quelle leggende ragazzi Gabri Un'euro finita, un'euro finita J'ai preferito ai combattati 100 per piscine Où 10 per piscine Un'euro? Juste per qualsiasi Non avessi ni strana Uuuuh Zomby size chicken Non sono migigianti ragazzi Ciao Maria No è il mio maglialino People loves No Ruben is my friend Is my best friend GG Tu un po' meno Ma dai Infatti chi se ne fotte di ciò che pensano ragazzi E' un creeper ragazzi Che diamine Oh mamma mia lì Ho preso un infarto ragazzi Oh mamma mia Ah, c'è lì, no? Ah, c'è lì Che bello raga Il locosco Esatto È affigato Peccato che è arrivato In inglese comunque Ragazzi Spero Di potervi Fare il mio meglio Con quel tradurlo Insomma No Addirittura Ok Ok A posto Poi faccio un bel assunto Magari ragazzi Comunque Rimane il fatto che C'è successo questa cosa Loro stanno partendo E' quello che sembra E ci sono questi due amici Una è una ragazza L'altra è un tizio E poi c'è il maianino Che è il nostro best friend Perché ormai nel cuore Abbiamo stato maianino Anche se in realtà La pecora potrebbe essere Piuttosto inquietata Da questa scelta Però va bene pecora Abbiamo una spada Abbiamo un banner A cui guardare Che è Gabriel Di sì maianino Sweet poster collection Ok E Ah abbiamo la cesta Andiamo un po' Esatto Ok Abbiamo un altro banner Un'altra di questi giorni Siamo vincere L'endercon L'endercon Ragazzi Certo Non vincerete mai Non vincerete veramente Cosa credete Però non è male Lui sendei Qualche giorno di questo E metteremo L'armatura superpotente Ragazzi Ciao Ruben Più o meno Che stuisa ragazzi Ah posso camminare un pochetto Ok mi piace Altra cesta Vediamo un po' che c'è dentro Sarebbe sempre Flint and steel ragazzi Mi raccomando Importante E ok Credo di aver preso tutto quanto Non c'è nient'altro Ok Let's go Andiamo nella trapdoor E andiamo Ok Guardate che figata Come va a scegliere C'è dimensura Let's roll Let's go Rock and roll Ok Ok Sarà felicissimo Credo Figata Piacerebbe incontro a Gabriele Va a vedere And well LOL Ha battutino Ha fatto Eeeh LOL Ok 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 Ragazzi Abbiamo vinto E lui Facciamo lui We'll win this time What are you talking about Because up to now We've hated losing But today Today my friends We're gonna start learning How to love Winning That didn't sound as good As it did in my head No no I'm with that Ce la faremo All right Ok Ok Cosa potremmo fare Ragazzi Something fun Diversamente Debo In effetti Più pericolosi Enderman I'm with that zombie Così non convincono I suoi due C'è la mia idea Perfetto Ragazzi Ehi ragazzi Stiamo andando bene Ce la faremo Ragazzi Team 1,2,3 Team Ok Ce la faremo We're gonna go Do this Ok Q Puniamo il legno Ma un ascia No È troppo mi stream Ma che cosa Ma che Dio Ma che Cristo Significa No Ragazzi No Vabbè È troppo mi stream Sta cosa No Vabbè Ok Quel maiale Qualcosa Di inquietante Ma è sincero GG Mi piace Rompi tutto Vai Ok Possiamo stare anche Tipo Normalmente Così Ma Scusa Non è quello Il suono Della stone Tagliamo pecore Ovunque Ragazzi Poveri pecore Altro legno Ancora Non so che Stiamo facendo Con questo legno Ma ok Prendiamolo Ok Siamo pronti Team Pam Pam Ok Ma tanto Fica Sto a parte Ragazzi Che eccezionale Ok Allora Io direi che Per questi 12 minuti È tutto Cercherò di portarvi Un episodio Almeno ogni giorno Se riesco Magari faccio Tutto l'appuntamento Alle 18 Anche se avevo in mente Di fare un altro gioco Alle 18 Però spero comunque Possete apprezzare Magari facciamo Uno o due episodi Al giorno Fatevi sapere nei commenti Lasciando un bel like Anche Se volete Che la serie continui Se vi piacerebbe Vedere altri episodi Della serie Una serie fantastica Eccezionale Ma soprattutto Tanto carina Che volevo portare Sul mio canale E spero Ovviamente possa piacervi Anche perché So che a voi piace Tantissimo minecraft E vedere minecraft Che segue le nostre decisioni È eccezionale Come gioco Quindi wow Davvero Un bel giochino Ci vediamo domani Col prossimo episodio Come sempre E noi ci vediamo Nel prossimo appuntamento Col prossimo video Al canale Che sarà Promete Il video Delle eventi Della risca Non lo so Comunque ci vediamo presto Ciao ragazzi Al prossimo video